Presidente Iorio, come dire, per lei è la prima volta che si accinge ad affrontare una campagna elettorale come soldato, non come candidato presidente. Che effetto le fa? È un effetto stranissimo, anche perché ho qualche difficoltà a richiedere il voto per me stesso. Eppure lo devo fare. Le ragioni della mia candidatura le ho già annunciate in altre occasioni. Ho voluto comporre una lista di centrodestra, senza equivoci e senza infincimenti, una lista che porta il mio nome non per vanagloria, ma perché quel nome per me è un programma. Significa che il mio impegno, da qualsiasi parte dovessi essere in consiglio regionale, sarà quello di portare avanti un discorso mai interrotto con i molisani, basato su scelte precise, programmi da realizzare, per sollecitare il governo regionale che ci sarà, e mi auguro che sia naturalmente il governo di centrodestra, a mantenere l'impegno con gli elettori e a cancellare questo brutto episodio di cinque anni di governo che hanno distrutto il Molognese. Quindi per me, io mi sento rappresentante di quel centrodestra che per cinque anni è stato all'opposizione di Frattura e dei suoi alleati, e che non intende mollare e che si presenta perché vengono mantenuti gli impegni. Presidente, ma lei ha come dire due avversari, nel senso i grillini e il centrosinistra, che l'accusano di una gestione un po' allegra negli anni passati in cui lei era il governatore della regione. Non la pensano così i molisani, la maggioranza dei molisani sa che degli errori li ho compiuti, come li compiono tutti gli esseri umani, quando soprattutto vogliono fare, e io ho voluto fare negli anni di governo, non mi sono mai fermato. In cento cose fatte, forse una, due, dieci saranno sbagliate, ma credo che i molisani rimbiangono quegli anni, quegli anni che sono stati anni significative, di crescita, e anche di difficoltà superate. Mi riferisco alle industrie, mi riferisco alla sanità, mi riferisco a una serie di idee che abbiamo portato avanti perché si realizzassero. Bene, è quel governo che io vorrei tornasse alla regione molise per riportare speranza ai giovani e a tutti i molisani.